Tudor 1926, un orologio che celebra la tradizione e l'innovazione. Il Tudor 1926 è una creazione che rende omaggio all'anno di fondazione del marchio Tudor, nato dalla visione di Hans Wilsdorf, il fondatore di Rolex. Wilsdorf voleva creare un marchio che offrisse orologi di alta qualità a un prezzo accessibile, mantenendo gli stessi standard di eccellenza e affidabilità di Rolex. Così nacque Tudor, un marchio che si ispira alla tradizione dell'alta orologeria svizzera, ma che al tempo stesso si rinnova con soluzioni innovative e originali. La linea Tudor 1926 ha la complicazione della data visualizzata da una finestrella a ore 3. Questa scelta di Tudor ha reso questo segnatempo esteticamente più equilibrato e funzionale. La finestrella è di forma rettangolare e ha il fondo bianco con i numeri neri, per facilitare la lettura. La data cambia automaticamente a mezzanotte, grazie al movimento meccanico a carica automatica che anima l'orologio. Il design del Tudor 1926 è caratterizzato da linee pulite, un quadrante raffinato e dettagli accurati. I quadranti presentano un design in rilievo che crea un delicato contrasto con la superficie liscia della scala dei minuti. I numeri arabi applicati in rilievo, gli indici delle ore a forma di freccia e le lancette a gladio offrono ai quadranti una grande ricchezza di dettagli che danno vita a un gioco di luci sorprendente e intricato. Alcune versioni hanno come indici dei diamanti che lo rendono un gioiello di prestigio e lusso. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro antigraffio e antiriflesso che garantisce una perfetta leggibilità in ogni condizione di luce. Il quadrante del Tudor 1926 è disponibile in diverse varianti di colore che ne esaltano la personalità e la versatilità. Si può scegliere tra il nero, il bianco, l'argento e l'opale a seconda delle proprie preferenze e del proprio stile. Ogni colore ha le sue sfumature e le sue caratteristiche che lo rendono unico e inconfondibile. Ogni quadrante ha il logo Tudor a ore 12 e la scritta Rotor Self-Winding a ore 6, che sta a significare il suo movimento automatico. Oltre al suo design sofisticato, il Tudor 1926 è dotato di caratteristiche tecniche di rilievo. Il movimento automatico all'interno dell'orologio garantisce la precisione del tempo, mentre la resistenza all'acqua fino a 100 metri ne ampia le possibilità d'uso. L'orologio è un compagno ideale per ogni occasione, da un evento formale a un incontro informale. Indossare un Tudor 1926 non è solo una dichiarazione di stile, ma anche una celebrazione dell'eleganza senza tempo che riflette un'epoca di classe e raffinatezza. Se stai cercando un orologio da polso che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Tudor 1926 è la scelta giusta per te.